Che sta succedendo? Eppure Giugno, dai! Ehi, cos'è stato? Che sta succedendo? Che cosa si l'ha? Quelqu'un peut dire? C'est un verbo. Répondez, disons si virai les conséquences. Ha, ha! Quellecoge a ta succedendo? Cosa è stato? Dove diavolo sa? Che sta succedendo? Presa! Où è Jacques le Charitier? Il è venuto con Gérardini! Cosa c'è chiudì? 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 Cosa cè chiudì? Cosa c'è chiudì?